Vuole che la mandi via e-mail o per fax? E-mail va bene. E-mail sì, eh? Sono troppo vestita. Oh, fa caldo qui dentro. Probabilmente tutte e due le cose. E-mail appena inviata. Stavo pensando a questo weekend, Alba. Al nostro campeggio? Qualcosa non va? Mi sono sposato. Perché ha voluto il mio nome? È morta. È stato un incidente sul lavoro, sul riscaldamento del forno per cuocere la ceramica. Così, all'improvviso, una tragedia. Pensavo di essere pronto a ricominciare. Oh, su. Oh, povero, povero, povero ragazzo.